Buonasera a tutti e grazie di essere qui presenti anche per questo terzo terza serata del terzo festival della psicologia inferiori Venezia Giulia. Io sono Claudio Tonzar, insegno all'Università di Urbino, Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, ma sono qui nella veste di responsabile scientifico di questo festival e anche di presidente dell'Associazione Psicoattività che è capofila di questo progetto di festival che stiamo portando avanti in regione con punto, come dice il titolo, da tre anni. Poche cose sul festival. Diciamo che è un festival che vedete il titolo un po' così ci richiama alla parola chiave del benessere psicologico, quindi un tema che forse è un po' distante da quelle che sono le aspettative che generalmente le persone nutrono nei riguardi della psicologia una disciplina che spesso si pensi, si occupi prevalentemente di disagio piuttosto che di benessere. Invece in questo festival abbiamo cercato di focalizzare una serie di tematiche che in qualche maniera mettessero in luce dei contributi di ricerca utili alle persone, quindi non ai tecnici, che invece mettessero in evidenza degli aspetti utili al benessere delle persone e della comunità stessa. Abbiamo individuato sostanzialmente cinque argomenti. Uno, le variabili ambientali, il ruolo che queste hanno nel benessere personale. Nel secondo caso abbiamo affrontato già in un evento precedente il tema dell'attività motoria, dello sport, degli effetti che queste attività hanno sul benessere psicologico dell'individuo. Oggi parleremo di Parkinson con un relatore che poi avremo modo di riconoscere. Abbiamo altri due eventi successivi a questo di Gradisca. Uno a Gorizia, in cui la prossima settimana, in cui si parlerà di multilinguismo, multiculturalismo e una dimensione di valorizzazione di questi due aspetti. E un ultimo incontro invece a Palbanova, dove invece parleremo di un concetto che è quello dell'antifragilità, ovvero sia di un'idea che ha un po' a che fare con il concetto di resilienza, ma va un po' lo supera, nel senso che parte dall'idea che la conoscenza dei limiti che ognuno di noi ha, possiede, possano costituire invece un elemento di forza per affrontare delle situazioni complesse nella vita degli individui. Quindi questi sono i temi un po' che abbiamo posto al centro di questo terzo festival. Qui vedete la sequenza degli eventi, che appunto in questo caso siamo nella terza giornata e vedete anche le date e i luoghi in cui si terranno gli eventi successivi. A Gorizia, come vi dicevo, venerdì prossimo, in realtà un doppio evento, alle ore 18 presso l'aula magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, in via d'Alviano 6, con la conferenza della professoressa Maya Rock sul multilinguismo e multiculturalismo, a cui farò fare a seguito anche un concerto, un concerto di musica classica coorganizzato con l'Associazione Progetto Musica di Udine in Slovenia, nello specifico al Castello di Kronberg. Mentre l'evento finale, che vi dicevo, di Palmanova, si terrà al Teatro Comunale alle giovedì 24 e avrà al centro appunto il tema dell'antifragilità, di cui vi dicevo. Devo assolutamente, per correttezza e perché ci tengo, dirvi che il fatto che questo festival è la risultante di una serie di partnership che lo rendono possibile, in primo luogo i contributi che ci aiutano a realizzarlo, che provengono dalla regione Friuli Venezia Giulia da parte dell'Assessorato alla Cultura e allo Sport e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia che appunto ci ha sostenuto. Poi esiste una rete che ha costruito tutto ciò, oltre alla psicoattività, che sostanzialmente è l'Università degli Studi di Trieste, qui oggi abbiamo un rappresentante che poi ci introdurrà il relatore, il professor Tiziano Agostini, l'Università di Udine, la School of Advanced Social Studies di Nova Gorizia, i comuni coinvolti negli eventi, ovvero sia il comune di Trieste, di Palmanova, di Cormons, di Gorizia e di Gradisca di Sonzo, che ci ospita in questo splendido teatro e che ringraziamo per questo, e poi l'Associazione Progetto Musica che ho già citato e l'Associazione Examina di Gorizia che oggi con noi ha coorganizzato la parte artistica di questo evento. Queste sono le indicazioni dove potete trovare le informazioni più specifiche sui programmi del festival, il sito web, le pagine social e nello specifico di questa serata invece richiamo semplicemente un po' l'organizzazione che è un po' articolata, nel senso che oggi in particolare riprendiamo una nostra vecchia abitudine che abbiamo coltivato durante il primo e il secondo festival della psicologia, ovvero sia quello di parlare di argomenti scientifici però utilizzando linguaggi diversi, ovvero sia non solo quello della divulgazione ma anche quello dell'arte. E quindi nella prima parte di questa serata verrà proiettato un corto, un corto che dura 13 minuti, che ci introdurrà con un lessico ovviamente filmico e artistico al tema che poi verrà trattato dal dottor Cucca successivamente. Avremo un commento poi da parte del dottor Alexander Edwards del contributo artistico e poi partiremo con la relazione del dottor Cucca a cui farà seguito un dibattito, come sempre, generalmente nei nostri casi abbastanza partecipato, quindi insomma chiunque può intervenire, chiedere e discutere con il nostro relatore rispetto al tema della serata. Io chiuderei qui e chiederei ora alla nostra Angelica, scusate, che rappresenta in questo momento il gruppo di examina, di far partire il nostro film che poi verrà commentato. Bene, l'introduzione era questa, come dicevo prima si possono usare linguaggi diversi per analizzare, riflettere o stimolare una riflessione su un tema. Ora ci dirà qualcosa, le sue impressioni, il dottor Alexander Edwards, che ha studiato a Londra, come avete visto dalle notte di sala, è una persona che ha studiato sceneggiatura, è consulente per la scrittura di film, di serie televisive, insomma si muove in questo ambito, anche se è molto giovane anche lui, però ha un'esperienza direi già abbastanza significativa e quindi nella collaborazione che vi dicevo con Examina, lui oggi ci rappresenta l'associazione e ci dirà qualcosa su quello che abbiamo condiviso in questo momento. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua e se mi inceppo sulle parole è perché non sono abituato ad avere così tanto pubblico, quindi grazie di avermi. Allora, ho messo il film in pausa, il volo, ma ho pensato che forse può essere utile e lasciarlo come sfondo per magari qualcosa che andremo a vedere. Parto subito con una domanda, so che è un'associazione un po' strana, però quando ho visto questo corto per la prima volta mi è venuto in mente un film del 79 che si chiama Kramer contro Kramer, chi l'ha visto? Alzi la mano. Ok, un film incredibile, bellissimo, con Dustin Hoffman. E perché ho pensato a Kramer contro Kramer? Io premetto che andrò a vedere solo la parte di scrittura di questo corto e in generale perché quello è il mio campo. Non vedrò prove attoriali, non vedrò regia, non voglio toccare quegli ambiti là. Però vi introduco un segreto che probabilmente avrete già sentito, però cerchiamo di capirlo con questo corto cosa vuol dire. C'è una regola nella scrittura per gli audiovisivi, perché il cinema in questo caso è un medium molto visivo. Se voi pensate a un libro, per esempio la Beat Generation è diventata famosa per essere introspettiva. Nel cinema non si può fare, perché bisogna vedere. Quindi c'è questa regola che si chiama show don't tell, che vuol dire mostra non dirlo. E se voi vi ricordate di Kramer contro Kramer c'è una scena bellissima che è Dustin Hoffman con suo figlio che cerca di fare colazione e fallisce miseramente. Che cosa ci dice quella scena? Mostrandocela. Sarei curioso di sapere se qualcuno vuole rispondere. Ve la ricordate innanzitutto quella scena dove brucia il pane, l'uovo si rompe, fallisce miseramente. Cosa ci dice quella scena di Dustin Hoffman? Sento dei brusì. Vabbè, ve lo dico io. Fondamentalmente ci mostra, senza dircelo, però ce lo sta dicendo, però mostrandocelo ovviamente, che Dustin Hoffman non sa fare il padre. Non è in grado. Infatti l'intero film va come ogni film ben scritto e qua Marcello, il regista e in particolare lo sceneggiatore che Paolo De Vita cerca di fare, un personaggio principale cambia da inizio a fine film. Ovviamente in un cortometraggio il cambiamento possibile è minore rispetto a un film di due ore come Kramer contro Kramer. Però fondamentalmente in Kramer contro Kramer il percorso di Dustin Hoffman è quello di diventare un papà. E alla fine del film ce la fa. Per chi non l'ha visto questo è un po' uno spoiler e non dirò nient'altro, perché assolutamente no, però è il concetto che conta. Tornando a questo corto qua, noi vediamo chiaramente che il protagonista, questo signore, soffre di questa malattia. Adesso non so se è una malattia o no, non sono esperto. Però, e quindi mettetevi nella testa di un possibile sceneggiatore, come lo mostro? Non posso dirlo, e poi lì ci torneremo perché anche qua per esempio il corto cade in un momento particolare e forse ve ne siete accorti, lo mostra nella sua quotidianità, nel senso nel fare le cose più semplici, come cercare di mangiare la pasta all'inizio, fatica. E quindi c'è un ostacolo che lui deve superare, no? Cerca di mettere la carta nel bancomat, grazie, e fatica, e quello è un ostacolo. Lo stesso con Dustin Hoffman in Kramer contro Kramer che cerca di fare colazione. E quindi nello stesso modo in questo corto il nostro protagonista cambia da inizio a fine film e ce ne accorgiamo, è un cambiamento piccolo, però un cambiamento significativo. Un passo indietro ovviamente, perché non è che cambia che perde la malattia, perché non è un cambiamento esteriore, no? E nel cinema, come in tutti i medium visivi, ci sono diversi tipi di conflitto. C'è il conflitto esterno che noi vediamo per esempio nel film quando cerca di mangiare la pasta o appunto al bancomat. C'è un conflitto personale con la gente intorno a noi che tra l'altro noi vediamo in questa scena coincidentalmente con il suo medico che probabilmente è la persona più vicina a lui. Per esempio qua fanno una cosa interessante, l'approfitto, non faceva parte del mio discorso, ma l'approfitto perché è apparso, come fai a vedere il conflitto personale con il medico? La trovata che ha avuto Paolo De Vita è quella di fare una partita a scacchi. E come, dicevo prima, lui da inizio cambia, ma non cambia a livello esterno perché lui comunque continua a soffrire, cambia a una trasformazione interiore, come in Kramer contro Kramer, Dustin Hoffman, non è che cambia fisicamente, non è che cambia la sua personalità, non è che cambia a livello esteriore, però cambia interiormente perché cresce. E nella stessa maniera anche il nostro personaggio cresce. Infatti dobbiamo vederlo. E in che momento lo vediamo? Quando ha la cattiveria gratuita, quando è di nuovo al Bancomat, lui questa volta risponde. E quello è un simbolo che il nostro personaggio dal minuto 0 al minuto 13, in questo caso, ha ricevuto un cambiamento. Che è un piccolo cambiamento, ovviamente, perché è un cortometraggio. Tornando indietro, ovviamente, scusate mi sto perdendo il gaso quando parlo di queste cose, c'è un momento, adesso non per essere una brutta persona o critico, c'è un momento in cui cade il film, dove voi sentite che non è necessario, che è quando è al bar. Quando è al bar e riceve le occhiate e il barista, che tra l'altro è una cameo, in italiano cameo è una comparsa, è il regista stesso quello, che dice soffre di Parkinson. Per esempio quello non ci serve, perché noi come spettatori l'abbiamo già visto per sei minuti. Quindi, quello è un po' una critica che faccio veramente piccola, perché hanno fatto così un buon lavoro nel mostrarlo, che l'abbiamo già capito, non serve che ce lo dici, no? E quindi voi, anche probabilmente come pubblico, sentite che quel momento era un po' più debole. Piccola parentesi rispetto al show Don't Tell di prima. Però credo che, tutto sommato, il corto che ha vita propria, perché poi i corti hanno sempre vita fine a se stessa, è interessante perché affronta in un modo particolare un tema che raramente viene affrontato, che è quello che vediamo fondamentalmente. E lo affronta in maniera molto onesta, molto trasparente, e in maniera molto genuina. Forse anche troppo genuina a volte, perché è molto semplice. Cioè, prende questo discorso complesso e lo rende semplice. Nella mente dello scrittore, come fai a renderlo semplice? Mettendo un conflitto semplice. Cioè, usare il Bancomat. Lui non deve fare viaggi, non deve salvare il mondo. Deve vivere la sua quotidianità. E quindi, Paolo De Vita, in un certo senso, cercate di mettervi nella testa di uno sceneggiatore, no? Devo mostrare questo discorso profondamente complesso, di cui probabilmente io, come sceneggiatore, non ne so niente, o non ne so abbastanza da quanto dovrei, fondamentalmente, quindi cerco... Devo renderlo anche accessibile per un pubblico. Come faccio a renderlo semplice? Dando un conflitto semplice, ma un ostacolo forte, che in questo caso è la condizione di cui soffre. E niente, quello era, secondo me, la curiosità molto interessante di questo lavoro, che, appunto, come già detto, mi ripeto, però, è una cosa molto interessante, che affronta un tema che io personalmente non credo di aver mai visto prima, sicuramente non in un personaggio principale, e sarei curioso, probabilmente loro, non so se lo faranno, Paolo De Vita e Marcello, però mi piacerebbe di più sicuramente vederlo affrontato in una maniera di un lungometraggio in produzioni e prodotti anche più mainstream, perché offre un determinato tipo di creatività, bisogna essere molto bravi per affrontarlo, ed è sicuramente qualcosa di diverso, e per questo, secondo me, merita attenzione. Grazie. Grazie veramente per le tue osservazioni tecniche sul film, noi l'abbiamo scelto, anzi, devo assolutamente ringraziare a questo proposito una collega amica che è qui in sala, Barbara Toros, che è un socia da sempre di psicotività, e che è un'esperta di cinema con il quale discutiamo spesso di questo, e ha individuato effettivamente un corto molto centrato, anche perché vedrete che ora il dottor Cucca inquadrerà il tema specifico mettendo in luce la rilevanza della produzione artistica, e in questo caso era molto affine, perché qui si parla di teatro-terapia sostanzialmente, di una riabilitazione che passa attraverso un'attività di tipo teatrale, che anche questa ha una parte, diciamo, motoria, di azione, quindi è molto in linea con quanto noi sapevamo, stava sui temi che erano oggetto di una ricerca scientifica, invece da parte del dottor Cucca. Quindi io ti ringrazio. Se posso, tra l'altro, questa è sempre all'interno del show, Don Teo, scusa, mi prendo al volo, il cinema come medium, essendo visivo, come già detto prima, si basa sul movimento, dicono, c'è un altro detto che si dice motion is emotion, quindi movimento è emozione, con solo una vocale che cambia. Anche qua vediamo, lui che deve muoversi, non può essere statico, soprattutto in produzioni, cioè a meno che sia una telenovela, dove c'è dialogo e quindi campo contro campo, in un cinema ci deve essere movimento, dobbiamo vedere e capire il personaggio tramite i suoi spostamenti e le azioni che fa. E quindi questa terapia teatrale, in un certo senso, si presta a questa regola che abbiamo detto prima, che è show don't tell, che appunto ci fa vedere il personaggio che è in azione e che, tra virgolette, combatte per superare gli ostacoli. Tra l'altro qui l'azione diventa proprio l'elemento qualificante, in qualche modo un gesto riabilitativo, in qualche maniera. Bene, ti ringrazio nuovamente e ora chiedo al professor Agostini e al dottor Cucca di venire al tavolo. Così passiamo alla parte, diciamo, scientifica, ma anche, come dire, è difficile dire cos'è scienza, cos'è arte, tra l'altro, da un certo punto di vista. Per cui... Allora, intanto buonasera a tutti e a tutti. è con piacere che questa sera introduco il dottore Alberto Cucca, che è un dottorando dell'Università di Trieste, del dottorato di ricerca in neuroscienze e scienze cognitive, che ho coordinato fino a qualche giorno fa, fino a fine ottobre, ed è in quel contesto che l'ho conosciuto, ma oltre a essere un dottorando dell'Università di Trieste e anche tanto altro. Adesso vedremo così una breve presentazione del suo curriculum scientifico. Allora, Alberto Cucca è neurologo, specializzato nei disordini del movimento, è nato a Venezia nel 1984, si è laureato cum laude in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste nel 2010 e poi nel 2016 invece ha conseguito la specializzazione in neurologia. Questo invece all'Università di Udine. nello stesso anno è risultato primo vincitore della Fresco International Fellowship on Movement Disorders presso il Dipartimento di Neurologia della New York University e pertanto si è trasferito negli Stati Uniti dove ha vissuto poi per quattro anni. Nella sua ricerca il dottor Cucca si è dedicato in particolare allo sviluppo di nuovi protocolli di neuro-riabilitazione per il trattamento dei sintomi non motori della malattia di Parkinson ha approfondito le sue conoscenze sulla stimolazione cerebrale non invasiva presso il Berson Halling Center della Harvard Medical School diretto dal professor Alvaro Pasqualeone sviluppando il primo protocollo di stimolazione transcranica per il trattamento dell'affaticamento mentale nella malattia di Parkinson. Negli anni successivi il dottor Cucca si è dedicato allo studio dei sintomi visospaziali della malattia di Parkinson cercando di caratterizzare il possibile impatto negativo che tali sintomi possono esercitare nei confronti delle funzioni motorie dei malati. In questo contesto il dottor Cucca ha sviluppato un innovativo protocollo di terapia complementare per la riabilitazione di sintomi percettivi basato sull'arte terapia. Tale studio ha ricevuto il premio come miglior progetto di ricerca da parte del Blast Frangione Foundation in occasione del simposio di Neuroscienze Cognitive svoltosi nel 2018 a New York. I risultati preliminari di questo lavoro saranno presentati questa sera. Dal 2020 il dottor Cucca svolge il suo dottorato di ricerca in Neuroscienze e Scienze Cognitive presso l'Università degli Studi di Trieste come vi ho detto prima frutto di una collaborazione tra la Clinica Neurologica di Trieste diretta dal professor Manganotti e del Dipartimento della Scienza della Vita che è sottoscritto e si propone di indagare le basi percettive delle allucinazioni minori sperimentate in pazienti affetti da malattia di Parkinson. Attualmente il dottor Cucca vive a Copenhagen dove lavora come responsabile medico della ricerca clinica in neuropsicologia presso un'industria farmaceutica internazionale e inoltre professore a contratto di neurologia presso la New York University School of Medicine. Nel tempo libero Alberto cerca di tornare il più possibile veneziano nella sua amata Venezia dove gli piace ancora perdersi per calli e campielli specialmente di notte. Il suo dipinto preferito è la zingara addormentata di Henry Rousseau esposta al MoMA di New York. Spera di trovare un giorno il coraggio necessario per avvicinarsi e provare a svegliarla. E già che oggi ogni risveglio è una nuova avventura lasciamo ora la parola al dottor Cucca che ci parlerà di Parkinson arte e riabilitazione. Grazie. Grazie mille professor Agostini grazie professor Tonza per l'invito a partecipare e ringrazio anche la dottoressa Ferrari e tutti gli organizzatori di questo evento e per me è davvero un piacere essere con voi questa sera. Il titolo del mio discorso oggi è abbastanza particolare e riguarda il potenziale riabilitativo dell'esperienza artistica in particolar modo dell'arte terapia dell'arte terapia visiva nei sintomi della malattia di Parkinson in particolare di un gruppo di sintomi che sono i sintomi di natura cosiddetta visuo-spaziale su cui ci addentreremo nelle prossime slide. Innanzitutto una slide per introdurre il problema la rilevanza del problema dal punto di vista epidemiologico parliamo della malattia di Parkinson che è la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa al mondo dopo la demenza di Alzheimer e che secondo alcune stime in realtà è destinata a diventare la malattia neurodegenerativa più diffusa al mondo nei prossimi decenni sono circa 10 milioni di persone che hanno una diagnosi di Parkinson al mondo anche se il numero di persone che convivono con questa malattia è probabilmente molto più alto dovuto anche a degli standard non uniformi di applicazione nella diagnosi tra i vari paesi il numero di persone che è affetto da questa malattia aumenta in maniera estremamente significativa con l'aumentare dell'età e si ritiene che nei prossimi 20 anni il numero di persone affette da malattia sia destinato a raddoppiare o addirittura a più che raddoppiare alcuni autori hanno definito questo trend epidemiologico di aumento quasi esponenziale di casi di Parkinson e anche di altre malattie neurodegenerative come una pandemia di neurodegenerazione abbiamo tristemente imparato a essere familiari con questo termine negli ultimi due anni e in un certo senso vuole proprio significare il fatto che questa condizione è destinata a diffondersi in maniera rapida a tutte le latitudini geografiche in tutti i paesi ci sono alcune differenze ovviamente rispetto alle pandemie infettive abbiamo imparato che le pandemie infettive soprattutto quelle sostenute da virus respiratori tendono a originare nel sud-est asiatico e poi a diffondersi da est verso ovest nel caso delle malattie neurodegenerative la pandemia tra virgolette neurodegenerativa sembra andare in direzione opposta cioè da ovest verso est cioè il numero di nuovi casi nei paesi che stanno andando incontro a un rapido processo di industrializzazione come la Cina o l'India aumenta lì in quei paesi in maniera molto più evidente molto più vistosa che ad esempio in Nord America o nell'Europa occidentale le ragioni di questo aumento del numero di casi non sono ancora noti nel dettaglio però verosimente sono correlati al fatto che vivendo di più aumentando la longevità aumenta anche la probabilità di sviluppare queste malattie che altrimenti non avremmo il tempo diciamo di sviluppare di incontrare nell'arco della nostra esistenza e mentre le malattie infettive migliorano al migliorare delle condizioni igienico-sanitarie ed economiche di un paese le malattie neurodegenerative si comportano esattamente all'opposto al migliorare delle condizioni economiche di sviluppo di un paese aumentano diventano sempre più problematiche e sempre più prevalenti voi capite bene che una popolazione più anziana non significa solamente un numero maggiore di persone con la malattia di Parkinson significa anche un numero maggiore di persone nelle fasi più avanzate della malattia dove è maggiore la necessità assistenziale significa anche avere caregiver più anziani a loro volta quindi veramente un importante problema riguarda anche la gestione e l'amministrazione della sanità e della sanità pubblica siamo pronti a questa pandemia di neurodegenerazione abbiamo i servizi le risorse le strutture adeguate per fornire un supporto alle persone che sono direttamente affette e i loro cari e i loro familiari che cosa fanno le malattie neurodegenerative le malattie neurodegenerative in sostanza colpiscono quello che è probabilmente il risultato più meraviglioso e affascinante della storia evolutiva umana cioè il nostro sistema nervoso centrale in particolar modo il nostro cervello quando noi cominciamo a differenziarci dal nostro più antico progenitore comune con lo scimpanzè circa 6 milioni di anni fa nel rift africano e iniziamo questo percorso evolutivo che ci porta a emergere come Homo sapiens la costante evolutiva di questo processo è l'aumento del volume cerebrale l'acquisizione di nuove competenze cognitive e lo sviluppo per l'appunto del nostro cervello è nel nostro cervello che risiede la nostra identità di specie ma anche la nostra identità individuale ciò che ci differenzia e che ci connota rispetto agli altri le nostre memorie le nostre emozioni le nostre capacità cognitive le nostre abilità certamente questo a volte non è sempre un processo lineare ci possono anche essere delle battute d'arresto più o meno momentanee però è un dato di fatto che diciamo se osserviamo l'evoluzione della nostra specie al progredire dell'acquisizione delle cosiddette milestones cognitive si associa a questa capacità a questo sviluppo del cervello che è anche un organo se vogliamo non particolarmente invitante rispetto ad altri organi più prestanti come il cuore che genera calore che inizia a battere fin dal primo momento della nostra vita il cervello è abbastanza più ostile se ne sta rannicchiato in un involucro di duro osso compatto algido molliccio separato dal resto della circolazione sanguigna da una vera e propria barriera ematoencefalica che noi neurologi dobbiamo sempre tenere in conto quando somministriamo i farmaci ai nostri pazienti che devono per l'appunto passare questa barriera per arrivare a destinazione eppure se ne sta lì rannicchiato in queste sue circonvoluzioni perché si è sviluppato in maniera così rapida che probabilmente ha esaurito le capacità di spazio a sua disposizione quindi si arrotola eppure è proprio lì che ci sono le sedi dei processi coscienti e lì che ci sono le nostre capacità cognitive e ciò che ci identifica e che dice la nostra storia sia come collettività sia come individuo ebbene questo è proprio ciò che le malattie neurodegenerative in qualche modo cercano di sottrarci il cervello con i suoi approssimativamente 100 miliardi di neuroni e circa 60 trilioni di connessioni se li mettiamo uno davanti all'altro possiamo coprire la distanza che va dalla Terra alla Luna e tornare indietro è costituito da diversi tipi cellulari e quello più importante uno tra i più importanti è dato dai cosiddetti neuroni cioè le cellule nervose che sono i depositari dell'informazione e questi neuroni hanno una caratteristica fondamentale pensate sono delle cellule che i biologi definiscono come terminalmente differenziate cosa vuol dire? vuol dire che non sono in grado di riprodursi noi nasciamo approssimativamente con un pool di neuroni con un numero di neuroni che è destinato più o meno a rimanere tale se non addirittura ad esaurirsi man mano che invecchiamo sono cellule che non possono riprodursi che non possono moltiplicarsi allora la domanda che sorge spontanea è se il numero di cellule grosso modo rimane lo stesso a saldi invariati come è possibile che noi nell'arco della nostra vita passiamo ad essere un infante che è sostanzialmente completamente dipendente dalle cure parentali per sopravvivere che lasciato a sé non sopravviverebbe per più di qualche ora a essere una persona in grado di comporre una sinfonia di scrivere di riflettere di arrabbiarsi di saper svolgere attività motorie anche complesse cosa succede se il numero di cellule grosso modo resta costante succede che cambia il modo in cui queste cellule parlano tra loro cioè cambiano le connessioni tra le cellule si formano nuove connessioni all'acquisizione di nuove competenze motore e ne vengono eliminate di altre che non servono più e questa capacità del cervello di organizzarsi e di adattarsi dinamicamente consentendoci di apprendere cose nuove viene definita plasticità cerebrale non so se il video parte forse sì vediamo vedete che il cucciolo di antilope africana dopo pochi secondi dalla nascita è già in grado sostanzialmente di sorreggersi sulle zampe e con qualche incoraggiamento da parte della mamma dopo pochi secondi è in grado di muoversi di diambulare nel nostro cervello invece il processo che porta allo sviluppo della locomozione e della stazione retta è molto più complesso richiede diversi tentativi diversi fallimenti perché questo? perché nella nostra specie la locomozione bipede la capacità di alzarci e di camminare è una funzione appresa esattamente come altre funzioni apprese e come ogni funzione appresa ahimè può essere perduta proprio per effetto della neurodegenerazione mi colpiva molto nel cortometraggio che abbiamo visto nella scena iniziale questo se posso fare una piccola digressione la bambina che cercava di utilizzare la forchetta e che era contenta per aver imparato a maneggiare questo compito motorio e nel contempo la persona con il Parkinson seduta davanti a lei che aveva difficoltà ecco quello in un certo senso e anche in questo caso l'arte arriva molto prima di noi a accogliere alcuni elementi di verità in un certo senso questo è proprio quello che fanno le malattie neurodegenerative c'è un'acquisizione di competenze motorie che poi viene perduta c'è una regressione di capacità precedentemente apprese il fatto che quindi il nostro cervello sia in grado di adattarsi modificando le connessioni tra le cellule che lo compongono ci spiega una cosa fondamentale nel campo delle malattie neurodegenerative ed è questa nelle malattie neurodegenerative l'istante zero non è l'istante zero cioè nel momento in cui il paziente comincia a sviluppare i primi sintomi della malattia il processo neurodegenerativo sottostante è andato avanti per diverso tempo in maniera completamente silente in maniera completamente asintomatica perché perché il cervello negli anni precedenti all'inizio dei sintomi ha reagito al problema migliorando le connessioni adattandosi plasticamente facendo lavorare di più i neuroni rimasti che quindi per anni sono riusciti a compensare per il problema e a non portare alla comparsa di alcun sintomo ecco perché noi come medici siamo sempre in ritardo quando si tratta di trattare le malattie neurodegenerative pensate che nel caso del Parkinson si ritiene che nel momento in cui il paziente comincia a sviluppare i primi sintomi come ad esempio il tremore che è per lo più un tremore a riposo nel film era un tremore soprattutto cinetico che si manifestava quando il paziente cercava di eseguire un movimento può essere sperimentato da alcuni pazienti sicuramente però il tremore classico della malattia di Parkinson è un tremore a riposo cioè che insorge quando l'arto viene mantenuto a riposo e diventa particolarmente vistoso ecco quando i pazienti cominciano a sviluppare i primi sintomi si ritiene che circa il 50 alcuni dicono addirittura il 60% di neuroni che producono la dopamina il neurotrasmettitore fondamentale nel Parkinson siano andati perduti questo ci dice due cose il primo è che il cervello è veramente un organo meraviglioso vuol dire che è riuscito a compensare fino a quel momento in maniera perfetta un problema come quello della malattia che lo sta colpendo e il secondo aspetto è quello che appunto quando noi formuliamo la diagnosi in realtà il problema verosimilmente ha avuto modo di andare avanti e di progredire per diverso tempo questo ci dà anche una ragione però di moderato ottimismo perché se c'è questa capacità plastica di adattamento del cervello forse noi non abbiamo nemmeno la necessità di guarire o di curare completamente il problema possiamo anche cercare semplicemente di rimandarne la comparsa se l'età media della comparsa dei sintomi della malattia di Parkinson sono attorno ai 65 anni noi potremmo cercare in qualche modo di ritardare la comparsa dei primi sintomi magari di una ventina d'anni e in questo modo una persona arriverebbe alla sua normale aspettativa di vita senza dover mai fare esperienza dolorosa dei sintomi di questa malattia le cause che portano alla perdita di questi neuroni che producono dopamina sono diverse alcune sono meglio note di altre uno degli elementi che sembra essere fondamentali è l'accumulo di proteine questa è una abbastanza costante in molte malattie neurodegenerative sono delle proteine che si accumulano all'interno delle cellule in qualche modo le soffocano interferiscono con i processi di sopravvivenza cellulare la cellula quindi entra in un programma di morte cellulare e quindi il neurone viene perduto e quando il numero di neuroni perso arriva a un punto critico ovviamente cominciano a comparire i primi sintomi nella malattia di parkinson questa proteina tossica che si accumula si chiama alfa sinucleina una proteina che è presente in tutti noi normalmente in quantità molto piccole non si sa nemmeno bene cosa faccia si ritene che sia implicato nella regolazione dell'attività sinaptica però quello che si sa è che nella malattia di parkinson questa proteina va incontro a delle modificazioni strutturali per effetto delle quali diventa insolubile cioè la cellula non riesce più a smaltirla non riesce più ad eliminarle quindi si accumula creando questi aggregati intracellulari che vedete qui in questa immagine in alto questo è un corpo di Levi cioè una formazione data dall'aggregazione di alfa sinucleina iperfosforilata quindi modificata che il neurone non riesce ad eliminare quindi questo è un neurone che sta andando incontro alla degenerazione questi neuroni che producono la dopamina che sono particolarmente affetti dalla malattia di Parkinson si trovano in una zona che è grande più o meno come l'unghia del nostro mignolo è una zona che si trova in un'area molto profonda del nostro cervello nel tronco dell'encefalo in particolar modo nel mesencefalo e sono neuroni che producono dopamina e che fanno parte di un circuito molto complesso che ha due scopi fondamentali da una parte quello di favorire il movimento volontario dall'altro quello di inibire i movimenti indesiderati o i movimenti involontari nel favorire i movimenti volontari questo circuito che viene colpito dalla malattia di Parkinson fa in modo che i nostri movimenti ci riescano fluidi ci riescano semplici non ci richiedano particolari fatica o concentrazione sono movimenti che diventano semiautomatici quando camminiamo noi siamo in grado di camminare e anche di fare altro non poniamo attenzione a ogni singolo componente del movimento che stiamo eseguendo proprio perché il cammino è un atto semiautomatico in questo quelle strutture che sono colpite dal Parkinson che si chiamano nuclei della base svolgono un ruolo fondamentale quindi capite bene che quando questa zona quest'area del cervello viene colpita e il circuito di cui fanno parte queste cellule si deteriora i due effetti fondamentali a cui assisteremo sono da una parte che compiere i movimenti che vogliamo compiere diventa sempre più difficile diventa sempre più faticoso richiede sempre più tempo e dall'altro assisteremo all'emergere di movimenti involontari come ad esempio il tremore nota a margine questi neuroni sono scuri perché contengono tra le altre cose la neuromelanina quindi contengono lo stesso pigmento di cui sono fatti i nostri nei e quindi se noi osserviamo un preparato anatomico di quella regione cerebrale e qui vedete alla vostra sinistra vediamo questa ombreggiatura scura che è proprio dovuta a questi neuroni che contengono questo pigmento che li fa risaltare rispetto al tessuto circostante infatti questa zona viene chiamata dai neuropatologi la sostanza nera o substanza nigra e vedete anche che nella sezione della persona col Parkinson che in vita era affetta da malattia di Parkinson questa zona è molto più difficilmente riconoscibile perché quei neuroni sono andati perduti questa slide che introduce la parte centrale della mia presentazione ci ricorda che nonostante la malattia di Parkinson sia definita come disordine del movimento perché motori sono i sintomi cardinali della malattia che portano il paziente a ricevere la diagnosi di Parkinson come il tremore la lentezza la rigidità o le difficoltà nel cammino la malattia però si manifesta con molti sintomi anche di natura non motoria ad esempio i disturbi del tono dell'umore la depressione l'ansia l'affaticamento sia fisico che mentale i disturbi del sonno i disturbi urinari i disturbi della regolazione della pressione arteriosa alcuni di questi sintomi non motori pensati possono anticipare la comparsa dei sintomi motori anche di diversi anni se non addirittura di decenni ad esempio il caso della perdita e riduzione del senso dell'olfatto l'iposmia che infatti è considerato uno dei sintomi cosiddetti premonitori tranquillizzo subito se tra i presenti ci fosse qualcuno che ha notato una perdita di senso dell'olfatto non tutte le perdite di senso dell'olfatto sono da intendere come sintomi premonitori di Parkinson se avete avuto una rinita nelle ultime settimane o se siete dei fumatori c'è il caso che questa sia la causa della perdita del senso dell'olfatto molto più che l'accumulo di alfa sinucleina però ho capito bene anche la nostra difficoltà a creare e mettere a punto dei programmi di screening nella popolazione perché se i sintomi i premonitori sono così vaghi sono così specifici come la stipsi o i cambiamenti dell'olfatto non possiamo permetterci di scrinare a livello di sanità di popolazione tutti coloro che hanno un alvo tendenzialmente stitico rallentato perché c'è una scarsissima specificità di questi sintomi nell'ambito dei sintomi non motori della malattia di Parkinson vi sono i sintomi di natura viso-spaziale sono riluttante a parlare dei sintomi percettivi alla presenza di esperti come il professor Agostini e il professor Murgia però cercherò di fare del mio meglio i sintomi viso-spaziali si riferiscono soprattutto all'uso cognitivo che viene svolto dell'informazione visiva vi faccio un esempio abbastanza pratico di sintomi di funzioni viso-spaziali devo salire nel treno le porte stanno per chiudersi io sono in movimento devo fare delle decisioni che guidano il mio movimento nello spazio tenendo conto del fatto che le porte si stanno chiudendo della mia velocità relativa rispetto al target a cui mi sto avvicinando della possibile presenza di persone che mi stanno camminando in direzione contraria e il mio cervello deve creare delle mappe spaziali per guidare il mio movimento in modo efficace e deve prendere una decisione nell'arco di poche centinaia di millisecondi questo è un buon esempio di integrazione di funzioni viso-spaziali e di movimento le funzioni viso-spaziali come ad esempio la percezione della direzione del movimento degli oggetti la localizzazione degli oggetti nella scena visiva intorno a me i rapporti spaziali tra i vari stimoli visivi sono affetti nella malattia di Parkinson e questa è una cosa che è stata iniziata a essere documentata già qualche decennio fa ma che negli ultimi anni è stata particolarmente caratterizzata quindi il modo in cui il paziente percepisce l'ambiente attorno a sé è alterato e capite bene che se il modo in cui io percepisco l'ambiente attorno a me è il modo in cui il mio cervello elabora queste mappe che devono guidare il movimento nello spazio è alterato prima o poi anche il mio movimento ne sarà affetto e questo è un importante filone di ricerca quello di cercare di capire in che misura un problema di natura percettiva in queste persone si traduce in un deterioramento del comportamento motorio le cause di problemi visivi viso-spaziali di questi problemi percettivi che le persone con il Parkinson hanno sono piuttosto complesse in sostanza si può dire che l'intero sistema visivo nella malattia di Parkinson può teoricamente essere colpito dalla retina sino alle aree della corteccia associativa dove le varie informazioni sensoriali vengono integrate ad esempio anche il modo in cui le persone con il Parkinson muovono gli occhi per scansionare l'ambiente attorno loro può essere alterato soprattutto un tipo di movimento oculare che si chiamano saccadi cioè dei movimenti rapidi coniugati che i nostri occhi vanno quando spostiamo la nostra punto di fissazione da un punto a un altro ecco quei movimenti coordinati rapidi dei nostri occhi sembrano colpiti dalla malattia di Parkinson sembrerebbe che le persone con il Parkinson scansionino l'ambiente attorno a loro con i loro movimenti oculari in modo più lento e meno efficace e questo si traduce in un ridotto accesso a informazioni spaziali rilevanti e fino dicevo a livello corticale fino al punto in cui le informazioni visive vengono elaborate vengono integrate con altre informazioni nella corteccia parietale e in altre aree della corteccia multisensoriale associativa per capire bene in che misura il sistema visivo è colpito dalla malattia di Parkinson cercherò di iper semplificando di partire dalla antica e classica distinzione delle due grandi componenti del nostro sistema visivo la componente del dove e la componente del che cosa sono credo anche studenti di psicologia quindi immagino che ne avranno sicuramente sentito parlare il sistema del dove come suggerisce il nome stesso è un sistema che è sostanzialmente è un sistema filogeneticamente molto antico molto rappresentato nei rettili quindi evoluzionisticamente fa parte del cosiddetto sistema percettivo arcaico che è come dice il nome stesso deputato ha uno scopo fondamentale dirci chi si trova dove è poco interessato alla caratterizzazione dettagliata dello stimolo visivo dei suoi attributi specifici il sistema del dove che si chiama anche sistema dorsale è implicato nel cercare di rapidamente stabilire le localizzazioni degli oggetti o delle persone o delle cose davanti a noi come tale è un sistema che è cieco al colore non è interessato alle differenze cromatiche tra gli stimoli non è interessato particolarmente alle caratteristiche agli attributi specifici degli stimoli visivi è soprattutto interessato a informarci sulla localizzazione quindi è un sistema molto importante per la nostra sopravvivenza perché dobbiamo essere in grado di identificare se c'è un predatore ad esempio che si sta avvicinando rapidamente e prendere i correttivi del caso il sistema del dove è anche un sistema che si attiva soprattutto nella periferia del campo visivo o meglio le cellule che lo compongono sono in connessione con quelle regioni della retina che sono extra foveali cioè che sono responsabili della percezione soprattutto della periferia del campo visivo l'altro grande componente del sistema visivo è il sistema del che cosa o sistema ventrale questo sistema invece è una più recente acquisizione l'abbiamo in comune ad esempio con gli altri grandi primati e ci permette invece di scrutinare di valutare dettagliatamente le caratteristiche dello stimolo visivo è quindi un sistema che è molto sensibile alle differenze cromatiche e ai cambiamenti di colori colore ci informa sulla natura chimico-fisica delle cose per esempio capiamo se un frutto è maturo e quindi una possibile sorgente di cibo come il suo colore vira è un sistema che invece è soprattutto attivato da stimoli centrali sono cosiddetti stimoli foveali quindi ad alta risoluzione spaziale quanti di voi hanno visto Jurassic Park parlo del primo quello degli anni 90 ok è un cult movie almeno per i ragazzi grazie anche prima dell'introduzione sul 35 anni ci siamo vicini è un cult movie diciamo della nostra generazione vi ricordate che una delle cose che Alan Grant in Jurassic Park dice ai suoi compagni di disavventura cerca di stare fermo perché se non ti muovi non ti vedi ovviamente è un'esagerazione però ci ricorda che nei rettili dove il sistema dorsale è particolarmente rappresentato in un sistema che si attiva con movimento il modo migliore se vogliamo avere qualche chance di sopravvivere all'attacco del tirannosaurus rex è quello di restare fermo perché in questo modo il sistema dorsale non è in grado di identificare perché si attiva con un'alta risoluzione temporale quindi con una modificazione spaziale dello stimolo invece se muoviamo lo stimolo visivo c'è il cosiddetto track and follow e riusciamo a distrarre il tirannosaurus quindi tornerete a casa questa sera tra le altre cose sapendo anche come sopravvivere a un eventuale attacco del tirannosaurus rex il modo in cui il sistema dorsale e il sistema ventrale viene colpito dalla malattia di Parkinson non è uniforme può cambiare sembra dalle evidenze di letteratura soprattutto negli ultimi anni che sia soprattutto il sistema del dove ad essere primariamente colpito in queste persone e questo è coerente con uno dei sintomi forse più disabilitanti della malattia di Parkinson che è il freezing o congelamento della marcia che si verifica proprio tipicamente quando i pazienti si trovano all'interno di ambienti che sono caratterizzati da multipli stimoli visivi che devono essere collocati rapidamente in specifiche coordinate topografiche e quindi in quel momento si assiste a un improvviso blocco del movimento il paziente percepisce come se i suoi piedi restassero incollati al pavimento e se chiedete a una persona con i freezing vi dirà che molto spesso questo fenomeno si verifica quando sta camminando in spazi ristretti o in spazi affollati o quando deve modificare la direzione rapidamente per esempio per evitare un ostacolo sul proprio traiettoria uno dei modi in cui il freezing della marcia viene trattato dai nostri amici riabilitatori dai fisioterapisti e dai fisiatri è proprio quello di dare i cosiddetti Q visivi cioè di focalizzare l'attenzione visiva del paziente su un singolo stimolo visivo in questo modo migliorando quello che viene chiamato il rapporto segnale rumore quindi focalizzando l'attenzione visiva su un singolo stimolo che consente alla persona momentaneamente perlomeno di superare questo unpass questo blocco motorio voi direte questo cosa c'entra con l'arte allora cercherò di spiegarlo nei prossimi minuti l'arte può essere definita in molti modi e sicuramente gli artisti per cominciare anche i filosofi i letterati sono molto meglio culturalmente equipaggiati di noi neurologi nel rispondere a questa domanda però dal punto di vista neuroscientifico l'arte può sicuramente essere definita come una forma di linguaggio come una forma comunicativa simbolica referenziale semantica con una propria struttura semantica di riferimento ma una forma di linguaggio cioè una forma che ci consente di comunicare di trasmettere concetti ad altre persone e per effetto dello suo valore altamente simbolico l'arte è in grado di comunicare linguaggi comunicare concetti che magari non verrebbero comunicati con forme di linguaggio più convenzionali come la scrittura o il linguaggio parlato questa è la fondazione dell'uso dell'arte come arteterapia quindi come terapia per migliorare il disagio mentale o la sofferenza psicologica delle persone proprio perché attraverso l'arte concetti e idee possono essere formulate evitando per esempio fenomeni di autocensura di imbarazzo di vergogna che non consentirebbero alla persona magari di esprimere quello che sta pensando mi aveva colpito ancora una volta nel film che abbiamo visto prima la capacità della persona finalmente di poter affermare qualcosa di poter comunicare qualcosa grazie anche all'aiuto che aveva ricevuto dalla dramaterapia ecco questo è proprio un elemento che se parlate con un'arte terapeuta vi confermerà sicuramente c'è un processo di capacità di comunicazione che attraverso l'arte viene garantito che poi permette anche di modificare la propria identità di malato cioè di passare da una persona che magari può vedere se stesso semplicemente come una persona destinata semplicemente a perdere funzione nel tempo per effetto di una malattia una neurodegenerativa c'è questo cambio di identità e la capacità di poter diventare qualcuno che invece ha qualcosa da dire qualcosa da creare qualcosa da affermare ecco non ci sono pillole che sono in grado di creare questo quindi in questo noi abbiamo nell'arte terapia come medici come neurologi credo un fortissimo valido alleato per migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti l'arte si ritiene che di fatto sia un elemento unico della nostra specie certamente non siamo un'unica specie capace di creatività ci sono specie che sono estremamente creative alcuni corvi sono in grado di capacità di problem solving e di utilizzo di utensili molto complessi però la spontanea produzione di opere d'arte è qualcosa che veramente ci contraddistingue come specie è qualcosa che emerge fin da quando noi viviamo siamo primi gruppi abbastanza primitivi di ominidi che vivono nelle caverne quasi istantaneamente iniziamo a produrre arte e questa è una cosa che ci segue che è riscontrabile in tutte le declinazioni culturali in tutte le fasi storiche in tutte le latitudini geografiche si ritene che sia stato cominciato ad essere usato come linguaggio coesivo quando i primi gruppi di esseri umani cominciavano ad aggregarsi e quindi l'arte seguiva a comunicare informazioni importanti ad esempio battute di caccia o concetti che seguivano a rafforzare l'identità di gruppo e poi nel tempo l'arte è diventata un linguaggio capace di veicolare informazioni sociali di elevata importanza informazioni religiose di elevata importanza veramente attraverso l'arte è possibile formulare anche emozioni che altrimenti non verrebbero espresse ma nel nostro caso noi non eravamo tanto o soltanto interessati alla capacità comunicativa dell'arte eravamo anche interessati al fatto che nel lavorare alla produzione di opere d'arte visiva gli artisti utilizzano in maniera anche abbastanza spregiudicata alcuni componenti del nostro sistema visivo al punto tale che per certi versi gli artisti figurativi possono essere definiti come dei neuroscienziati di successo gli artisti si trovano a dover in qualche modo bypassare i limiti dettati dalla fisica degli artefatti per cercare di elicitare delle sensazioni estetiche in ognuno di noi pensate se devo rappresentare qualcosa di tridimensionale su uno spazio che di fatto tridimensionale non è come una tela o se devo imprimere una direzione di movimento a una scultura che di fatto è statica io devo in qualche modo cercare di elicitare di indurre questa sensazione di movimento di tridimensionalità facendo che cosa? cercando di sfruttare il modo in cui il nostro sistema visivo elabora e processa l'informazione sensoriale in questo caso l'informazione visiva e una cosa fondamentale che mi piacerebbe che vi portaste a casa oggi come messaggio è che il nostro sistema visivo si è evoluto per rilevare cose importanti non necessariamente cose fisicamente coerenti il nostro sistema visivo è pronto a ignorare incoerenze fisiche perché il nostro cervello è soprattutto orientato a cercare di identificare informazioni rilevanti ecco perché noi possiamo osservare un quadro e ignorare completamente delle evidenti violazioni della legge della fisica e comunque sperimentare sensazioni realistiche e vere c'è verità anche se non c'è logica nell'arte e questo è proprio dovuto al fatto al modo in cui il nostro cervello elabora le informazioni ecco perché noi possiamo ad esempio in violazione delle leggi della fisica rifrattiva abbastanza evidente vedere la ragazza della Morisot che si specchia nello specchio però non vedere noi stessi delle due luna o la ragazza vede se stessa nello specchio noi vediamo entrambe quindi dovremmo esserci anche noi nello specchio oppure c'è qualcosa che non torna elemento che completamente sottovalutiamo perché comunque la scena rimane sostanzialmente coerente e veritiera si chiama effetto venere abbastanza presente nella ritratistica europea del 600 il sistema dorsale che si basa soprattutto sulla discontinuità di luminosità quindi di luminanza percepita per indicare dove si trova lo stimolo visivo all'interno della scena visiva è quel sistema che ci permette di attribuire le ombre agli oggetti che le stanno proiettando e quindi noi istantaneamente non abbiamo problemi a vedere l'ombra dell'arcangelo Gabriele che si staglia da sinistra verso destra anche se il pattern di illuminazione ambientale è completamente diverso perché le ombre nello sfondo vanno dall'avanti verso l'indietro non ci facciamo caso perché ciò che serve al nostro sistema dorsale è la discontinuità di contrasto per dirci chi si trova dove e tanto è sufficiente anche se devo dire che personalmente se mi trovassi davanti a un arcangelo probabilmente il pattern delle ombre sarebbe l'ultima cosa di cui mi preoccuperei altro pattern delle ombre completamente incoerenti nel surrealismo nel decostruttivismo ancora una volta il nostro cervello non ci pone particolare attenzione e si concentra soprattutto su altri attributi dell'informazione visiva l'importante è che sia coerente che ci sia abbastanza discontinuità di contrasto io sono veneziano questa è una delle piazze più belle del mondo piazza della mia città e ancora una volta in questa veduta di canaletto vediamo che ci sono ombre di personaggi che vanno da destra verso sinistra sul lato della piazza e dall'altro lato della piazza abbiamo ombre che vanno in direzione completamente opposta vi assicuro che non ci sono specchi sulle procuratie di San Marco quindi non è possibile che le ombre vadano contemporaneamente in due direzioni diverse ancora una volta non ci facciamo nessun caso non importa altro modo in cui gli artisti ci fregano e utilizzano il nostro sistema visivo molto ben definito a questo dalla letteratura anche divulgativa degli ultimi dieci anni penso al saggio di Margaret Livingstone The Biology of Sin è l'effetto Mona Lisa il suo sfuggente e inafferrabile sorriso che in qualche modo ci sembra molto più evidente quando distogliamo lo sguardo dal sorriso della Gioconda ci sembra quasi che stia sorridendo a noi e poi nel momento in cui ci concentriamo e fissiamo attentamente specificamente il suo sorriso dopo un po' questo sorriso scompare l'interpretazione storica sta nell'uso dello sfumato da parte del maestro nel ritrarre le labbra e la regione inferiore del volto di Mona Lisa in realtà una spiegazione neuroscientifica abbastanza credibile è che il sistema dorsale che è anche quello implicato nel riconoscimento del contenuto emotivo delle informazioni quindi anche nell'espressività facciale e che vi dicevo prima si attiva soprattutto quando gli stimoli vengono presentati perifericamente si attiva soprattutto quando noi guardiamo Mona Lisa in sede extra foveale cioè la teniamo nella periferia del nostro campo visivo ecco che allora ci sembra che in qualche modo il sorriso sia più evidente spiega forse meglio dello sfumato perché per noi il modo migliore per apprezzare il sorriso di Mona Lisa sia distogliere lo sguardo dal sorriso di Mona Lisa gli artisti sono anche addestrati a conoscere i colori non solo per le loro caratteristiche cromatiche ovviamente ma anche per la loro luminosità e hanno saputo utilizzare colori cosiddetti equiluminanti cioè dotati della stessa percepita luminanza per elicitare specifiche sensazioni estetiche come ad esempio il senso di movimento è il caso dell'uso in questo gli impressionisti sono stati quelli che hanno fatto più ricorso a questo tipo di effetto vedete nel sollevante di Monet vedete che il sole è chiaramente di un colore diverso rispetto al cielo circostante è un sole arancione rosso rispetto al cielo bluastro attorno quindi il sistema ventrale che è sensibile al colore riconosce il sole come qualcosa di diverso dallo sfondo però il colore che viene usato è più o meno dotato della stessa luminosità e quindi se noi osserviamo l'immagine una scala di grigi il sole quindi con il sistema dorsale il sole sostanzialmente scompare quindi si crea un paradosso di vedere qualcosa attraverso il nostro sistema ventrale ma di non sapere dove quella cosa sia perché il sistema dorsale del dove viene ingannato quindi il sole ci sembra vicino quando pensiamo che sia lontano ci sembra lontano quando pensiamo che sia vicino cioè sia vicino che lontano contemporaneamente il nostro sistema dorsale viene ingannato e quindi il sole sembra come fluttuare in maniera ambigua questa caratteristica pulsatile che è proprio tipica della pittura impressionista altro esempio classico sono i papaveri che sembrano abbracciati da questa leggera brezza che li fa oscillare nel vento proprio perché sono dipinti ancora una volta con un rosso che ha delle caratteristiche acromatiche molto simili al prato circostante quindi ancora una volta vediamo delle cose e ancora una volta non siamo esattamente sicuri di dove quelle cose siano vi suona familiare con quello che vi dicevo prima quando vi parlavo dei sintomi viso-spaziali nel Parkinson sono pazienti che hanno difficoltà a stimare le relazioni spaziali a individuare la localizzazione esatta degli oggetti che si trovano davanti a loro va bene questo è un altro esempio sull'opponenza cromatica sfruttato questa volta da Van Gogh quindi il fatto che colori che normalmente si neutralizzano si sovrapposti in uno all'altro per effetto dell'attivazione del campo recettivo sia dei coni sia delle cellule gangliari rettiniche se in realtà vengono messi uno a fianco all'altro si potenziano a vicende quindi il rosso ci sono molto più rosso se è vicino al verde e viceversa altro trucchetto con cui il nostro sistema visivo viene in qualche modo sollecitato dall'artista per indurre in questo senso un particolare apprezzamento di percezione cromatica uno dei progetti con cui stiamo collaborando con il team del professore Agostini all'università di Trieste è anche quello di valutare di cercare di caratterizzare le basi delle elucinazioni che vengono tutta volta sperimentate da alcune persone con la malattia di Parkinson ancora una volta l'arte ci dice qualcosa vi invito a guardare il centro della spirale focalizzandovi solo sul centro della spirale il bottone grigio al centro ignorando il resto ignorando lo sfondo continuare a fissarlo per diciamo una decina di secondi dopo che l'avete fissato per qualche secondo ancora potete abbassare lo sguardo e goderevi la notte stellata di Van Gogh ancora una volta c'è un utilizzo diacronico del sistema ventrale del sistema dorsale e c'è soprattutto il fenomeno della persistenza del dopoimmagine che è probabilmente dovuto a un fenomeno di feedback negativo sottrattivo delle cellule amacrine e dello strato interpressiforme nei confronti delle cellule ganglionari che dettagli nel fatto che una volta che noi sperimentiamo questa sensazione erronea di movimento una vera e propria illusione questa poi si mantiene nel tempo a un certo punto del processamento dell'informazione visiva l'informazione visiva diventa sempre più astratta viene assegnata a specifiche categorie che sono poco dipendenti dalle esperienze contingenti di questo o quello stimolo cioè noi abbiamo bisogno di categorizzazioni simboliche che a un certo punto permettono al nostro cervello di classificare quello che vediamo attraverso l'uso di moduli di template che sono cosiddetti view invariant cioè indipendenti dall'esperienza contingente perciò a un certo punto nell'elaborazione visiva noi cominciamo ad attribuire informazioni se una cosa è animata o inanimata se è una cosa è antropomorfa o zoomorfa se è una cosa che si muove o che è statica e così via quindi c'è un grado di astrazione di insebolismo crescente nel processamento dell'immagine visiva ecco perché noi possiamo distinguere immediatamente non solo due figure che danzano ma due figure femminili che danzano che sono in realtà fatte semplicemente da un rassemblement di triangoli in un certo senso si pensa che anche la nostra capacità di la nostra esperienza piacevole con il cubismo derivi anche dal fatto appunto che vengono utilizzati questi view invariant memory templates per cui noi riusciamo a distinguere una categoria di una forma senza ancora averla vista senza averla vista prima proprio perché è indipendente dalla nostra esperienza visiva particolare questa tendenza questa proclività del nostro cervello ad attribuire stimoli visivi a categorie preformate è anche quella che ci porta a portare a mare qualcuno di voi a vedere un cane dalmata visto da dietro che annusa il pavimento nonostante lo stimolo sia in realtà semplicemente una collezione di punti neri e punti bianchi proprio perché per effetto dell'attivazione di queste aree soprattutto a livello temporale inferiore a livello ventrale delle aree di categorizzazione semantica dell'informazione visiva qualcuno di voi lo vede? il dalmata per curiosità nessuno di voi lo vede? nessuno? ah bene alcuni lo vedono bene dai allora se è vero come è vero che l'esperienza che creare opere d'arte che gli artisti nel lavorare al conseguimento dei loro scopi estetici o concettuali utilizzano il modo in cui il nostro sistema visivo elabora l'informazione visiva allora la domanda che ci siamo posti all'anno 1 nel 2018 è noi possiamo usare questo processo come se fosse un training per riabighetare per migliorare proprio quelle funzioni visive viso-spazio-percettive che sono alterate nelle persone con Parkinson perché uno dei grandi conseguimenti delle neuroscienze funzionali negli ultimi anni è quello di valutare ad esempio la connettività tra varie aree cerebrali con metodico come la risonanza magnetica funzionale e quindi di mappare quali sono le varie aree cerebrali che si attivano nel processo nelle varie componenti ad esempio del processo di creazione di un'immagine e quindi noi possiamo in qualche modo misurare l'effetto che la creazione di un'opera d'arte visiva ha nelle aree del nostro cervello comprese le aree del sistema visivo e questa è stata proprio l'idea alla base del nostro protocollo di arte e terapia quindi che consisteva chiedo scusa si dicevo che consiste in 20 sedute di arte e terapia di arte e terapia figurativa quindi soprattutto acquarelli dipinti disegni sotto la supervisione di un gruppo di arte e terapeute 20 sedute di arte e terapia prima e dopo le quali i nostri pazienti sono sottoposti a diversi test di natura neuropsicologica clinica e proprio alla risonanza magnetica funzionale per vedere come la connettività cerebrale eventualmente si modificasse proprio in seguito all'intervento di arte e terapia e abbiamo fatto queste procedure anche in un gruppo di controlli in scienza è molto importante controllare il proprio esperimento quindi abbiamo eseguito le stesse procedure in un gruppo di persone dello stesso range d'età anche per vedere quali fossero le differenze al baseline cioè le differenze all'inizio che differenziassero queste due popolazioni la persona con il Parkinson e le persone senza il Parkinson dello stesso range anagrafico e cosa vediamo vediamo ad esempio che in questo test che gli psicologi conoscono molto bene che è la figura di Reigst immagino un pochettino astrusa che nel nostro studio chiedevamo ai pazienti di copiare su un foglio bianco posto davanti a loro vediamo che il numero di errori che viene compiuto o meglio la performance svolta nella copia da parte delle persone con la malattia di Parkinson è significativamente peggiore rispetto ai controlli sani che sono i pallini verdi ma vediamo anche che al termine del corso di arte terapia la performance dei pazienti Parkinsonani migliora significativamente e si normalizza cioè diventa statisticamente indistinguibile da quella dei controlli sani e lo stesso effetto di normalizzazione lo vediamo anche in test più specifici di percezione visiva come questo test computerizzato della figura di Navon in sostanza i pazienti erano seduti davanti a uno schermo del computer avevano due stimoli visivi i cosiddetti stimoli coerenti e incoerenti ogni volta che vedevano una lettera loro dovevano premere il tasto sì e se lo stimolo visivo non era quella lettera dovevano premere il tasto no il problema è che la lettera che dovevano vedere in questo caso era una E per esempio allora nello stimolo alla sinistra che è uno stimolo coerente è abbastanza semplice perché la E grande è fatta da copie piccole di se stessa da tante piccole E nello stimolo destro che è incoerente ci sono E ma la lettera grande è una grande H quindi se loro dovevano riconoscere una E dovevano fare quello che in neuroscienze si chiama discounting the global preference cioè ignorare quel fenomeno per effetto del quale il nostro sistema visivo tende a prioritarizzare gli stimoli globali più grandi rispetto agli stimoli visivi più minuti perché ciò che è grande verosimente ha più probabilità di essere rilevante e vedete che gli errori che i pazienti perché insoniali fanno in questo test rispetto ai controlli sani sono significativamente maggiori c'è un numero di errori che viene fatto e anche il tempo necessario a fornire la risposta e il tempo di reazione è molto più prolungato però vedete anche che dopo 20 sedute di arte e terapia il numero di errori a questo test si riduce sensibilmente vediamo ancora una volta questo effetto di normalizzazione cioè la preferenza globale in qualche modo viene ignorata in maniera più efficace e quindi la segregazione figura contorno c'è la capacità di estrarre stimoli visivi dettagliati quando immersi in pattern visivi complessi che è una delle attività che i nostri pazienti facevano con gli arti terapeuti perché gli veniva chiesto proprio di elaborare informazioni visive complesse migliora sensibilmente pensate anche alle implicazioni che può avere questo nella vita pratica quotidiana cioè avere una maggiore capacità di identificare stimoli visivi minuti all'interno di pattern complessi cosa interessante è che anche la funzione motoria di questi pazienti migliora significativamente questo è il punteggio UPDRS che è una delle scale validate per valutare la funzione motoria dei pazienti in questo caso più alto il punteggio peggio è vedete che rispetto ai controlli sani ovviamente i pazienti perchisonali hanno un punteggio più alto che è espressione di una compromissione motoria e vedete anche che il punteggio scende significativamente quindi migliora dopo l'arte terapia secondo me questo è un dato interessante perché vi assicuro che questi pazienti non è che facessero 40 minuti di corso sul treadmill o altre attività fisioterapiche motorie specifiche facevano arte l'unico intervento che hanno fatto per i due mesi in cui sono state reclutate in uno studio è stato quello di concentrare le loro capacità visuo-spazio-percettive all'interno di un programma di arte e terapia eppure il modo in cui si muovono migliora ah e anche il modo in cui camminano specificamente questo è un test che si chiama Time Up and Go TUG e vediamo ancora una volta è un test che sostanzialmente viene fatto chiedendo al paziente di alzarsi dalla sedia camminare per circa tre metri tornare indietro e viene cronometrato ebbene quando nella malattia di Parkinson il paziente viene chiesto di fare questa cosa e nello stesso tempo svolgere ad esempio un compito cognitivo sovrapposto come può essere un test di fluenza verbale o un calcolo di sottrazione il cammino rallenta in maniera drammatica ci vuole molto più tempo alla persona per completare il test perché perché a causa della compromissione dei movimenti semi-automatici che osserviamo nella malattia di Parkinson queste persone devono ricorrere a strategie cognitive di compenso per mantenere il cammino e quindi ma la cognitività non è ottimizzata per la locomozione quindi si trovano sempre in una situazione di saturazione delle loro energie mentali e cognitive per mantenere il cammino e se in questo contesto io somministro un ulteriore test come può essere quello cominci a sottrarre 7 partendo da 100 e vada indietro vediamo che il sistema va in crash e il cammino rallenta drammaticamente ecco vediamo che questo rallentamento al termine delle salute di arte e terapia si riduce significativamente quindi evidentemente è una spiegazione possibile che sia migliorata la riserva cognitiva quindi la capacità cognitiva del palato di riuscire a eseguire il doppio compito anche il modo in cui i pazienti muove gli occhi che abbiamo visualizzato valutato con metodica di eye tracking migliora significativamente questo è un test di Benton al paziente abbiamo chiesto di vedere lo stimolo veniva presentato una serie di stimoli qua sulla parte superiore della carta e per ogni test c'erano quattro possibili opzioni e il paziente veniva chiesto di identificare il match corretto cioè quale delle quattro opzioni è effettivamente la figura al vertice della carta per fare questo i pazienti devono muovere gli occhi e confrontare ripetutamente il test stimulus con le quattro possibili opzioni e mentre facevano questo noi registravamo il modo in cui muovevano gli occhi ebbene vedete che l'estensione complessiva dei movimenti saccadici nelle pazienti con Parkinson è molto più lunga nei controlli sani questo riflette un'esplorazione visiva poco efficiente in cui il paziente deve tornare sullo stesso stimolo visivo con i propri occhi più e più volte per riuscire a fornire un'informazione accurata quindi il percorso che i suoi occhi devono svolgere complessivamente per completare il test con successo è più lungo rispetto ai controlli sani eppure vedete anche che dopo aventi seduti di arteterapia questo pattern di ridotta esplorazione oculomotoria migliora sensibilmente quindi questo eccesso di esplorazione di movimenti aggiuntivi si riduce e infine e mi avvio alla conclusione la risonanza funzionale quindi che a riposo mostra che in questi pazienti al termine di eventi seduti di arteterapia la connettività quindi il modo in cui si parlano diverse aree del nostro cervello che sono deputate l'integrazione dell'informazione visiva si modifica osserviamo un aumento della connettività funzionale soprattutto a livello delle aree visive secondarie in particolar modo in alcune aree del sistema dorsale in particolar modo a livello della corteccia parietale posteriore ora questo è particolarmente interessante anche dal punto di vista delle relazioni tra percezione e movimento perché se è vero che l'informazione visiva serve a guidare i movimenti nello spazio il passo successivo serve quello di cercare di capire esattamente com'è che il movimento in questi pazienti migliora per effetto dell'arteterapia e questo è un'estensione dello studio che è al momento in corso vi lascerei sperando che parta il video con i pazienti che hanno che descrivono la loro esperienza di partecipazione al nostro progetto e questi sono pazienti italiani perché lo studio è stato svolto nell'ambito della fondazione fresco sia all'NYU che in uno dei centri della fondazione in Italia e quindi in aggiunta a quello che abbiamo visto noi diciamo scientificamente con i nostri dati sulle funzioni percettive e sulle funzioni motoriche c'è anche il racconto dei pazienti su quello che ha significato per loro partecipare a una terapia creativa come l'arteterapia e che cosa quindi con la loro esperienza cerco di fare partire e che cosa Grazie. 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 Mi avvio alla conclusione, quindi è stato un viaggio che abbiamo fatto assieme piuttosto lungo, siamo partiti dalla neuroplasticità, dalla malattia di Parkinson, abbiamo parlato di sintomi motori e non motori, siete stati eroici nel seguirmi anche in concetti abbastanza complessi, ma abbiamo sentito anche parlare di speranza e di come la qualità di vita di queste persone può essere migliorata e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 difficoltà di lettura nella correttezza, nella velocità. Cosa dice la letteratura su questo? Sì, sono riportate difficoltà di lettura in alcuni pazienti. Non si sa se le difficoltà di lettura siano attribuibili necessariamente a un distorto programma delle saccadi, anche se è probabile. Questi pazienti hanno diverse anomalie oculomotori, hanno avuto tempo di ad entrarmi nei dettagli, però una è sicuramente le saccadi che sono soprattutto saccadi ipometriche, cioè sono movimenti di ridotta ampiezza. Quindi soprattutto le saccadi verso i cosiddetti saccadi internamente generate, quindi verso la localizzazione dove si presume che sia uno stimolo visivo che è apparso in precedenza. Quindi essendo ipometriche, cioè avendo una ridotta ampiezza, il paziente ne deve generare di ulteriori per riuscire a foveare il target. Questo sarebbe interessante valutare anche se per esempio è correlato con l'affaticamento, che non credo sia stato fatto. Quindi se qualcuno vuole farlo, degli studenti come progetto di ricerca, sarebbe interessante. Questi pazienti hanno anche problemi di convergenza, hanno un disturbo di convergenza per l'affaticamento della muscolatura extraoculare, per cui c'è anche una tendenza alla diplopia, allo sdoppiamento delle immagini. Quindi devono costantemente sforzarsi di rimettere a fuoco l'immagine. Quindi le difficoltà nella lettura possono essere dovute a diversi problemi, ma sono effettivamente riportati. Se un difetto di convergenza è la causa principale, allora ci sono delle lenti con dei prismi proprio che vengono prescritte e che servono in qualche modo a cercare di mitigare questo problema. Però sì, sono riportate. Uno non ci pensa pensando al Parkinson, nell'immaginario collettivo alla malattia del tremore. Difatti quando tu hai parlato, non ci pensavo assolutamente, quando hai illustrato questo verrà avvenuto questo dubbio. Assolutamente. Vi stupirà forse sapere che in realtà circa un 30% di persone con Parkinson non svilupperanno mai tremore. O se lo svilupperanno, lo svilupperanno in fase molto tardiva e lieve. Quindi il tremore, anche se è un sintomo appariscente, non è presente in tutti. Ci sono altri sintomi, soprattutto la lentezza, che sono veramente i sintomi fondamentali nella malattia. Ecco, il microfono perché sennò non si sente e non si, visto che viene poi mandato anche, c'è un filmato che poi ovviamente... Per quanto riguarda l'alimentazione, c'è qualcosa da evitare, c'è qualcosa determinante che... Essendo un familiare in casa che ha questa patologia, avendo... Volevo sapere, per quanto riguardava l'alimentazione, se c'era qualcosa di specifico da evitare o... Sì, grazie per la domanda, signora. Ci sono alcune raccomandazioni dietetiche e nutrizionali che però cambiano rispetto allo stadio di malattia e le caratteristiche del paziente. In alcuni casi, per esempio, nelle fasi un po' più avanzate di malattia, l'assorbimento del farmaco principale su cui si basa la gestione clinica del paziente, che era l'evodopa, l'assorbimento di questo farmaco può essere ostacolato, per esempio, dall'assunzione di cibi ad alto contenuto proteico. Quindi si sconsiglia, nelle persone che sperimentano fluttuazioni motorie, cioè alternanze di periodi in cui i farmaci funzionano, con periodi invece in cui il farmaco funziona di meno e i sintomi sono più intensi, in quella specifica tipologia di paziente si sconsiglia di assumere il farmaco a distanza ravvicinate da pasti ad alto contenuto di proteine, quindi ad esempio uova o prodotti caseari, eccetera. Questo però, ripeto, in una specifica popolazione. In linea generale ci sono alcuni studi osservazionali che sembrerebbero suggerire che la dieta mediterranea possa conferire effetti protettivi nei confronti di molte malattie neurodegenerative, tra cui anche la malattia di Parkinson, questo per effetto soprattutto dell'elevato carico di antiossidanti che sono in grado di contrastare la neuroinfiammazione, che è uno dei meccanismi che in qualche modo contribuisce alla progressione della malattia. Però in questi studi è molto difficile capire esattamente qual è il singolo nutriente o qual è il singolo tipo di alimento, perché l'alimentazione mediterranea è uno stile di vita, soprattutto quando nella letteratura medica si parla dell'alimentazione mediterranea, si parla soprattutto dello stile di vita mediterraneo degli anni 60, quindi gente che si alzava la mattina alle 4, faceva attività fisica di vario tipo, aerobico e anaerobico, piuttosto intenso e vigoroso, viveva in una società familiare come nelle società rurali in cui c'era una stimolazione sociale e ambientale costante, per cui l'anziano comunque veniva mantenuto all'interno della propria, aveva un ruolo, una competenza, quindi anche una stimolazione cognitiva importante e anche l'alimentazione con alcuni... e quindi in realtà quello che vediamo degli effetti protettivi di questa dieta è anche in parte dovuto proprio a uno stile di vita più generale, quindi in questo senso è difficile formulare raccomandazioni specifiche. In linea generale comunque si ritiene che tutto quello che in qualche modo ha un effetto diciamo potenzialmente neuroprotettivo, quindi anche una vita salubre fatta evitando quindi cibi che hanno effetti pro-infiammatori come gli zuccheri raffinati, eccesso di zuccheri raffinati complessi o acidi grassi saturi oppure una scarsa attività fisica, uno stile sedentario, queste sono tutte abitudini di vita che in qualche modo possono avere effetti neuroprotettivi, quindi fare in modo che quei neuroni che sono rimasti nel cervello della persona che sta sperimentando la malattia sopravvivano di più, lavorino meglio e siano meglio in grado di compensare per la perdita dei neuroni. Quindi in questo senso quindi sono più raccomandazioni olistiche, ecco, di stili di vita salubri. Un'altra cosa, voglio sapere se c'è una predisposizione per quanto riguarda questa malattia, se una persona è iperattiva oppure una persona sedentaria. Sì, non sappiamo ancora se la vita sedentaria di per sé rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di questa malattia. Quando mi riferivo diciamo a stili di vita, mi riferivo soprattutto al fatto che il nostro modello di sviluppo economico, soprattutto di industrializzazione intensa, determina il fatto che nel corso della nostra vita noi siamo accumulativamente esposti da alcuni prodotti chimici e sostanze ambientali, come pesticidi, erbicidi, diserbanti, vernice, eccetera, solventi. In qualche modo nel tempo, nelle persone che sono vulnerabili a questa malattia, probabilmente su una base genetica, contribuiscono nel tempo ad aumentare il rischio che poi la malattia si verifichi. Sulla stile di vita sedentaria o meno, sappiamo meno di qual è il rischio specifico, però quello che noi consigliamo, la prima domanda che, una delle prime domande che personalmente faccio ai pazienti col Parkinson che seguo, che così faceva anche il mio maestro, è quanto ti muovi alla settimana, quanta attività fisica fai. E se non ti muovi mai comincia a muoverti, se già ti muovi cerca di muoverti di più. Soprattutto l'attività aerobica moderata sembra essere estremamente importante per la neuroplasticità, perché l'esercizio aerobico sembra collegato alla produzione di alcune sostanze, tra cui i cosiddetti fattori neurotrofici, che ancora una volta sono in grado di aumentare l'efficienza dei neuroni residui. Quindi una delle raccomandazioni di stile di vita che noi facciamo sempre ai nostri pazienti è di mantenersi fisicamente attivi e di svolgere attività aerobica moderata, ovviamente se non ci sono controindicazioni cardiologiche o di altra natura, ma sforzarsi di mantenersi attivi. È molto più facile mantenere una funzione motoria quando è ancora presente, piuttosto che cercare di recuperarlo una volta che è andata perduta. Questo lo vediamo molto bene nei pazienti che per esempio vengono ospedalizzati per altri motivi, per esempio per una caduta che ha una frattura, il paziente viene ospedalizzato, rimane due settimane in ospedale allettato dove non può muoversi e quando torna a casa la sua capacità di muoversi e di fare quelle attività che prima gli riuscivano in maniera tutto sommato semplice, è stata fortemente pregiudicata. Quindi la regola Aure è cercare di mantenersi sempre attivi. Io volevo fare due domande. Una sul filmato, volevo chiederle se è abbastanza coerente con il profilo di una persona con Parkinson, cioè se è stato rappresentato bene e a che grado potrebbe essere quella persona. E poi una seconda domanda è sulle cellule staminali e neuronali se si possono utilizzare per le malattie neurodegenerative. Grazie. Grazie a lei, sono eccellenti domande. Allora sulla prima faccio un atto di umiltà, bisognerebbe chiedere a una persona che soffre di questa condizione se si sente adeguatamente rappresentata dal filmato. Quindi su questo posso dire dal punto di vista clinico se c'erano alcune cose che mi sembravano più o meno coerenti rispetto a quello che posso osservare io nelle mie interazioni con i pazienti nella maggior parte dei casi, fermo restando che ogni paziente è un'individualità, è un caso a sé stante. Direi che alcuni elementi sicuramente mi sembravano realistici. Il paziente all'inizio mostrava anche dei movimenti piuttosto bruschi a scatto, che mi sembravano quasi dei movimenti discinetici, che sono quasi degli effetti collaterali da eccessiva stimolazione farmacologica. Normalmente nel Parkinson il movimento involontario tipico, come dicevo, questo tremore a riposo, soprattutto distale, che colpisce soprattutto le parti distali degli arti, le dita, viene chiamato il movimento del contarmonete o dell'arrotolare le pillole, questo tremore di sovrapposizione del pollice indice. Raramente la malattia di per sé si manifesta con questi movimenti che noi in gergo tecnico chiamiamo ballistici, ballistici, cioè movimenti rapidi. Quelli sono quasi sempre movimenti che si vedono per effetto di un sovraccarico farmacologico, cioè si chiamano discinesie. Quello che mi sembrava un veritiero è il fatto, che corrisponde almeno alla mia esperienza personale, è vedere come in realtà per effetto dei sintomi motori tutte le attività del vivere quotidiano possono essere colpite, dal forchettare la pasta all'utilizzare un bancomat, allacciarsi le scarpe, abbottonarsi la camicia. Sono attività che noi normalmente svolgiamo senza prestare particolare attenzione e che nella persona che convive con il Parkinson richiedono sforzo. Quindi in questa compromissione a 360 gradi anche dell'attività del vivere quotidiano coglievo sicuramente un elemento molto, molto, molto realistico. E per quanto riguarda lo stigma, che è molto ben rappresentato nel cortometraggio, anche questo è purtroppo un elemento molto vero. Come dicevo nell'immaginario collettivo la malattia è ancora la malattia del tremore. In qualche modo c'è anche una riluttanza, si pensa che comunque magari la persona possa non essere in sé, non essere padrone dei propri pensieri, quindi magari c'è anche timore, paura di interagire. Sono tutte scemenze, ovviamente, che però contribuiscono a questo senso di alienazione che poi in realtà è doppiamente negativo perché spinge il paziente a fare cosa? A essere sempre meno socialmente attivo, quindi a muoversi di meno, a interagire di meno. C'è il cosiddetto ritiro sociale che a sua volta accelera ulteriormente la progressione di malattia perché meno ci muoviamo, più difficile muoversi e più difficile muoversi, meno siamo motivati a farlo e quindi si entra in questa spirale negativa di progressivo ritiro sociale che siccome era ben evidenziato, cellule staminali sono state provate soprattutto all'inizio degli anni 2000, sono stati dei trial importanti perché il razionale è quello di utilizzare, sapete tutti cosa sono le cellule staminali? Sono cellule non differenziate che hanno la capacità di differenziarsi sulla base di alcuni stimoli che gli vengono dati. In questo caso il razionale è quello di indurne la differenziazione nel tipo di neuroni che sono persi nella malattia di Parkinson, cioè i neuroni dopaminerici, in modo da rimpiazzarli. Quindi idea intuitivamente brillante che è stata tentata, il problema è che i successi sono stati molto transitori purtroppo e non si sono mantenuti nel tempo. Le difficoltà sono sostanzialmente due, cerco di farla breve. Una è il fatto che noi stiamo inserendo delle cellule indifferenziate in un posto, che è il cervello, dove i rapporti gerarchici tra vari sottotipi cellulari sono il frutto di centinaia di migliaia di anni di evoluzione. Quindi c'è bisogno che in quella specifica regione di un millimetro cubico ci siano tot neuroni colinergici e tot neuroni gabaergici e tot neuroni dopaminergici e questi rapporti siano conservati in modo fisiologico. Non abbiamo questa capacità granulare di rimpiazzare solo quelle cellule che servono. Il secondo elemento è il fatto che purtroppo per il fatto che quelle proteine tendono ad accumularsi nelle cellule, vi ricordate che vi parlavo dell'alfa-sinucleina, purtroppo l'alfa-sinucleina poi viene rilasciata dalle cellule morenti nello spazio extracellulare e si diffonde alle cellule circostanti. Quindi quello che è stato visto a distanza di pochi mesi dal trappianto di cellule staminali è che purtroppo anche le cellule sane dopo un po' di tempo, quelle transfettate, cominciavano ad accumulare alfa-sinucleina, come se venissero contagiate dalla diffusione di queste proteine tossiche vanificando quindi i nostri sforzi. Abbiamo forse spazio ancora sicuramente per una domanda che ho visto qui. Allora, nell'intervista del video finale sui risultati della terapia mi ha stupito molto sentire come i pazienti parlassero principalmente del loro cambiamento d'umore, quindi che siano più felici rispetto alla riacquisizione di un certo tipo di abilità motorie. E quindi volevo capire se i risultati della terapia siano piuttosto dovuti magari a questo cambiamento d'umore rispetto alla riacquisizione in sé di certe abilità. Cioè volevo sapere dove stava l'ago della bilancia. Ottima domanda. Non è semplice rispondere a questa domanda perché l'intervento di arte e terapia è complesso e ci sono diversi meccanismi che possono spiegare perché funzioni e perché migliori la qualità di vita. Certamente essendo quell'aspetto psicologico e di sofferenza psichica quello che viene definito un unmet need cioè un disturbo che di fatto per il quale noi non siamo in grado come medici neurologi di rispondere in modo efficace è possibile che loro si siano concentrati in quello perché quello era in quel momento il loro bisogno più irrisolto che finalmente veniva corrisposto. Noi abbiamo farmaci che sono abbastanza efficaci nel migliorare le funzioni motorie specialmente nelle prime fasi di malattia però non abbiamo farmaci che sono in grado di agire sul vissuto del paziente quindi probabilmente parte dell'enfasi che i pazienti mettevano nel descrivere i loro miglioramenti emotivi effettivi e psicologici dipendeva anche dalla loro sorpresa genuina di vedere che questa questa di apprendere di questa nuova dimensione che non si aspettavano quindi credo che il bias di report in parte sia possa essere dovuto anche a questo quello che ci permette però di essere ragionevolmente sicuri che i miglioramenti percettivi svolgono un importante componente nel miglioramento complessivo è il fatto che abbiamo osservato modifiche nei movimenti saccadici in test che non sono soggetti a fenomeni di learning è molto difficile modificare il pattern di esplorazione saccadica semplicemente per effetto di un miglioramento del tono dell'umore specialmente quel tipo di analisi che abbiamo visto sulle metriche delle saccadi che sono molto poco influenzati dallo stato emotivo contingente e soprattutto le modificazioni della connettività funzionale con un aumento della connettività in v2 che ancora una volta è difficilmente spiegabile sulla base unicamente di un aumentato benessere emotivo però sono dimensioni che ovviamente si integrano reciprocamente vedete qualche settimana fa mio padre si è operato di cataratta l'entusiasmo che sta mostrando in questi giorni sì mia mamma la lascia un pochettino sconcertata però noi però sia mio fratello se io siamo veramente felici di vedere l'entusiasmo e anche il tipo di engagement sociale che mio papà sta mostrando in questi giorni proprio per effetto dell'aver migliorato la propria dimensione percettiva cioè l'effetto di isolamento sociale che una deprivazione sensoriale può causare è enorme quindi migliorare la funzione percettiva sicuramente migliora anche il grado di attività di iniziativa di movimento con miglioramenti a 360 gradi comunque loro hanno questi dati comportamentali molto molto vari una figura complessa direi dubito che ci possa pre se voi avete provato a farla insomma dubito è molto difficile che sia influenzata chiaro che però insomma il dato mi sembra molto forte poi c'è una compenetrazione sicuramente però mi sembra molto molto solida ecco un'ultima domanda volevo chiedere sempre sullo studio i pazienti erano in qualche modo appassionati di arte prima dello studio o c'erano anche pazienti che non erano appassionati di arte si sono poi appassionati durante lo studio su 24 pazienti due avevano avuto una pregressa training non professionale ma comunque una pregressa esposizione a corsi di disegno in alcuni casi eccetera i restanti quasi la totalità non avevano avuto nessuna esperienza e però da quel momento hanno continuato a farlo so che alcuni pazienti negli Stati Uniti adesso partirò tra qualche settimana e mi hanno detto che loro hanno finito nel 2018 e continuano adesso a trovarsi tra di loro e a fare momenti di arte e terapia di gruppo tra di loro anche la dimensione di gruppo per tornare anche alla domanda precedente è fondamentale di supporto reciproco quindi sì noi non avevamo messo nei nostri criteri di inclusione la necessità di aver avuto un training visivo proprio perché volevamo vedere in un setting ecologico che cosa succede tanto più una persona che non è stata esposta a questo tipo di intervento bene c'è ancora no non ho visto delle mani alzate però vedo tutte le persone dove si svolgono i corsi? allora ci sono diverse risorse diverse associazioni che offrono diverse forme di arte e terapia dramma terapia che era quello che abbiamo visto in precedenza ad esempio arte e terapia eccetera ci sono diverse associazioni attive in vari territori c'è anche danza terapia mi pare che si chiama uno dei vari gruppi adesso non voglio fare pubblicità all'uno verso l'altro però un gruppo che mi ricordo si chiama DanceWell che vi consiglio di andare a cercare in internet se no anche l'istituto fresco in Italia offre dei laboratori permanenti di arte e terapia che eventualmente potete consultare alcuni sono corsi che vengono offerti in continuo quindi prego io vi ringrazio ancora dell'attenzione che avete avuto per questo lungo vai quasi più di due ore incontro e sono molto contento anche perché questa idea che avevamo avuto del festival con una forte compenetrazione delle tematiche scientifiche con quelle artistiche che questa sera è stata veramente forte, integrata e convergente e questo ci deve far pensare sul fatto che spesso forse educativamente noi siamo portati a valutare questi due domini così distanti ma invece compartecipano al nostro essere, alla nostra identità e anche forse alla nostra qualità della vita vi ringrazio ancora dell'attenzione ci vediamo venerdì prossimo a Gorizia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti